Mi chiamo Filippo Renaud, sono un biologo, insegno anatomia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Piemonte Orientale. Ho creato uno spin-off accademico che si chiama Epinova Biotech. Ci occupiamo di creare una pelle artificiale. Può essere utilizzata per curare ferite che hanno difficoltà a cicatrizzare, ad esempio le ustioni o le ulcere di tipo diabetico. L'epigel è una sorta di spugna in grado di sorreggere il tessuto che cresce. Metto il mio idrogel lì e faccio sì che il tessuto intorno ci cresca sopra e dentro. La spugna è fatta di un materiale completamente naturale che viene riassorbito dal tessuto che si sta creando. Quindi io non ho la tipica cicatrice che mi aspetto da una ferita importante. o semplicemente una palcatura che quando smette di essere utile viene riassorbita dal tessuto che si crea. E quindi io ho il tessuto esattamente come quello circostante, indistinguibile.